La musica è una incredibile e favolosa esplosione di sentimenti ed emozioni. Quindi se già con poche cose si riesce a creare una sintonia del genere, un'emozione di questo tipo, figuriamoci cosa si potrebbe fare se una città con potenzialità pazzesche come Reggio Calabria fosse attrezzata seriamente e fosse realmente a misura di musicista. Già con queste piccole cose riusciamo a valorizzare tutto ciò che riusciamo attraverso il suono a tirar fuori da noi. Sicuramente è un sogno incredibile, sarebbe un sogno per tutti, dai più giovani a quelli della vecchia scuola. Si potrebbe realmente portare questo ambiente ad un livello superiore. La tecnologia ha reso la musica realmente universale alla portata di tutti ed è necessario che ci siano degli spazi ben attrezzati per poter esprimere se stessi e per poter essere veramente in sintonia con l'ambiente che ci circonda. Ecco perché la musica è un tesoro di tutti e per tutti ed è bene che ci sia una sorta di isola felice alla quale approdare e concretizzare finalmente questo sogno universale insito dentro ognuno di noi. Viva il sano confronto con chiunque, in ogni dove, con qualsiasi strumento musicale abbiamo a disposizione. Viva la massima libertà di espressione e di comunicazione dei propri sentimenti. Viva la musica!